A Lucca il convegno a scuola con il cuore, una giornata di confronto sulla formazione all'utilizzo dei DAE e alle manovre salvavita. Entra nel vivo fuori dal comune, progetto per Under 30 di Siena, Grosseto e Arezzo, tre giornate di laboratori cinematografici e musicali finanziati nell'ambito della legge regionale 3 del 2022. Festa della Toscana va in scena Voci di Libertà, spettacolo gratuito alla città del Teatro di Cascina, sul palco anche Gaia Nanni, Giovanni Truppi e Vasco Brondi. A Lucca il convegno a scuola con il cuore. Istituzioni, scuola, terzo settore e sanità insieme per salvare delle vite. È il messaggio che arriva dal convegno a scuola con il cuore come insegnare a salvare una vita, istituzioni e volontariato a confronto, che si trarrà a Lucca sabato 26 novembre presso il Real Collegio. Una giornata di approfondimento, formazione e scambio organizzata dall'associazione di volontariato Mirco Ungaretti ODV di Lucca per celebrare i suoi primi dieci anni di attività e che insieme al provveditorato agli studi di Lucca, Massa e Carrara si pone l'obiettivo di dar vita a una collaborazione tra associazioni sul territorio nazionale, istituzioni, scuole e 118 in tema di formazione dei docenti come istruttori per l'utilizzo dei DAE e delle principali manovre salvavita. Un progetto di una valenza straordinaria, è corretto che l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale sia vicino a un'iniziativa del genere che mette insieme il mondo del volontariato, professionisti, le istituzioni per fare in modo che i ragazzi siano i primi protagonisti di un processo di salvataggio diffuso, quello che può avvenire con l'utilizzo di un defibrillatore che può salvare la vita a una persona ha un valore che va ben oltre, diciamo, semplice iniziativa, stiamo costruendo delle persone formando, che possono essere delle persone, degli angeli che salvano le persone e quindi quando c'è questa formazione diffusa i ragazzi devono essere i protagonisti e credo che insomma la Toscana e il Consiglio regionale faccia bene a stare vicino, sostenere e finanziare queste iniziative, serve una cultura diffusa. L'iniziativa sarà suddivisa in più momenti, si partirà facendo il punto sulla legislazione in materia, seguirà una sessione scientifica con medici e ricercatori per approfondire il tema della morte cardiaca improvvisa e della necessità di intervento rapido. Si discuterà poi della formazione dei docenti con il modello utilizzato nelle scuole lucchesi, infine ci sarà uno spazio di confronto tecnico per capire come si stanno muovendo le associazioni e quali sono i progetti in atto in Italia, al fine di produrre un documento unico da presentare ai tavoli istituzionali. Una sessione sarà dedicata anche a testimonianze di intervento sul campo e sarà consegnato il premio BLS di Angel 2022 ai soccorritori laici, protagonisti di interventi di salvataggio. In questo evento vogliamo mettere a confronto il lavoro fatto dalla nostra associazione, la mia congheretti ODV di Lucca e le associazioni nazionali che si occupano di insegnare da anni nelle scuole la rianimazione cardiopormonare, le istituzioni locali e nazionali e regionali per parlare tutti della stessa lingua, cioè insegnare ai nostri figli come salvare una vita. Abbiamo messo insieme i personaggi che riteniamo essenziali, quindi ricercatori scientifici, dottori che parleranno della parte medica riguardo l'arresto cardiaco, ex onorevoli che parleranno di due leggi che sono state fatte a riguardo, la legge 105, quella della Buona Scuola del Ministro Giannini, e la legge 116 dell'anno scorso, del 2021, dell'onorevole Lapia Moulet. Cerchiamo di coinvolgere più associazioni nazionali possibili in modo da trovare nella formazione docenti, come abbiamo fatto a Lucca, un modo concreto per insegnare e divulgare queste manovre all'interno delle scuole italiane. Durante la mattinata, in parallelo ai lavori del convegno, si terranno dei corsi BLSD per 70 studenti del Liceo Artistico Passaglia di Lucca, svolto da istruttori docenti e volontari delle associazioni presenti, mentre gli studenti dell'Istituto Superiore Istruzione Sandro Pertini saranno presenti in sala in progetto alternanza scuola-lavoro attivato ad hoc. Il rapporto tra scuola e sanità deve diventare un rapporto sempre più stretto, l'abbiamo visto anche con la recente pandemia. Questo è un progetto molto importante che ha due aspetti. Uno che riguarda i ragazzi, quindi diamo questa educazione, questo insegnamento al primo soccorso e quindi a quello che cos'è l'arresto cardiaco con i nostri giovani. Ma formiamo anche tantissimi docenti che a loro volta formano sia i ragazzi che altri docenti ancora. Quindi cerchiamo di allargare ed estendere il più possibile questa esperienza. Il defibrillatore ormai possiamo dire in tutte le nostre scuole e gran parte dei nostri insegnanti sono formati e preparati a questo. Si stima che ogni anno in Italia muoiano improvvisamente circa 70.000 persone. La causa è di origine cardiovascolare nell'80% dei casi, oppure cerebrale nell'8%, respiratoria nel 6%, mentre rimane inspiegata dopo un'analisi macro e microscopica nel 6% dei casi. Il progetto Fuori dal Comune anima Siena, Grosseto e Arezzo Entra nel vivo Fuori dal Comune, progetto creato dai giovani per i giovani al fine di dar vita a esperienze aggregative. L'iniziativa prevede una full immersion di tre giorni di laboratori gratuiti rivolti agli under 30 che si terranno a Siena, Arezzo e Grosseto. Oltre 150 ragazzi che hanno aderito avranno così l'occasione di sviluppare le proprie competenze nel campo cinematografico o di realizzare un progetto musicale. Finanziato dal Consiglio regionale in attuazione della legge 3 del 2022 nell'ambito degli interventi per l'aggregazione giovanile, Fuori dal Comune è realizzato da Oxfam Italia e dalle associazioni giovanili Aretine, Farrago e Arezzo che spacca. Abbiamo strutturato tre full immersion della durata ciascuna di tre giorni sulle città di Arezzo, Siena e Grosseto, dove proviamo a esportare un modello che negli anni si è sviluppato ad Arezzo, dove sono i giovani effettivamente che progettano i progetti per i giovani. In questo modo il coinvolgimento è garantito, tanto che abbiamo coinvolto 150 giovani su tutte queste tre città. Le full immersion si svilupperanno in tre giorni di formazione e di azione creativa di un videoclip musicale che verrà girato durante la terza giornata, quindi sarà un set cinematografico dove si possono sviluppare sia soft skill ma anche hard skill nell'ambito della comunicazione e della cinematografia. Ci saranno tutti i reparti della truppa che verranno formati su ragazzi che vanno da esperienza zero a esperienza professionale, quindi si creerà anche un tessuto, lo lasceremo a livello locale, questo tessuto professionalizzante e di comunità educante. Speriamo di lanciare un seme che poi crescerà per far sviluppare tutta una serie di attività anche imprenditoriali a livello giovanile. Ad Arezzo c'è questa cosa bellissima che l'associazionismo è un po' come una specie di avviamento all'imprenditorialità giovanile. Farrago, Arezzo che spacca ne sono due esempi, siamo ragazzi che lavorano nell'ambito del cinema e della musica e si sono riuniti intorno alla forma dell'associazionismo. Si parte dunque a Siena dal 25 al 27 novembre, a Grosseto dal 2 al 4 dicembre e ad Arezzo dal 9 all'11 dicembre. Al termine dei laboratori nelle tre città è previsto un evento finale di performance live con tutti i partecipanti che si terrà il 10 dicembre ad Arezzo. Ci teniamo anche proprio a questa espressione perché è il lavoro che ha tentato di fare negli ultimi cinque anni Oxfam, parlando di protagonismo giovanile e pensando che il protagonismo giovanile è quando i ragazzi attivamente fanno qualcosa per se stessi e per gli altri ragazzi. Troppo spesso diamo atto a dinamiche verticali o comunque frontali, un po' paternalistiche, nel senso che pensiamo sempre che dobbiamo essere noi adulti, sono un'adulta, a dover dare qualcosa ai ragazzi. Invece abbiamo capito con un lavoro durato anni che i progetti per i giovani devono essere gestiti da loro stessi e in questo caso si parla anche di rigenerazione urbana perché abbiamo compreso che questo poteva avvenire anche facendo in modo che avessero degli spazi per loro, spazi che potessero essere gestiti da loro o comunque, come vedrete poi in questo progetto, visti per la prima volta da loro perché la truppa e il set diventano praticamente degli strumenti per creare aggregazione e un punto di vista nuovo su uno spazio da riqualificare. Io sono entrato nel gruppo della Farrago da circa un annetto ed è stata un'esperienza che in un certo senso mi ha un po' stravolto la vita perché io avevo appena lasciato la magistrale, tra l'altro la magistrale in biologia, quindi tutt'altro campo e ho detto ok, provo a ripartire, ho trovato questa esperienza tramite così amici, articoli e post, ho detto proviamo. È stata formativa non soltanto dal punto di vista appunto di pratico, di hard skill, ma proprio perché mi ha reso protagonista e ha rimesso in moto in me un cambiamento che è stato fondamentale, proseguendo appunto sia con la Farrago sia con questo progetto diventando appunto produttore e comunque sia formatore per altri ragazzi sperando che comunque la mia esperienza serva da esempio in un certo senso. Mi fa molto piacere che il modello Arezzo tra virgolette viene esportato anche nelle altre province della Toscana del Sud perché per l'amministrazione comunale di Arezzo e per le associazioni del territorio è normale diciamo interagire e coprogettare siamo riduci da progetti di grosso successo come Oltre Camera che ha portato alla creazione di una serie tv a retina fatta da giovani per i giovani e anche da altri progetti partecipati e questo è bello perché va anche oltre il campanilismo che abbiamo in Toscana quindi Arezzo si è negrossetto insieme in un progetto innovativo e per questo ringrazio oltre all'associazione Farrago e Oxfam ma anche il Consiglio regionale della Toscana che ha voluto portare avanti questo progetto e mi auguro che sia il primo di una lunga serie di eventi che vedono i giovani aretini e direi toscani protagonisti del nostro futuro. Lo spettacolo Voci di Libertà per la Festa della Toscana 2022 Saranno Voci di Libertà quelle degli artisti che sul palco della città del Teatro di Cascina si esibiranno nello spettacolo gratuito mercoledì 30 novembre alle 21 per celebrare la Festa della Toscana quest'anno è dedicata al tema della libertà di espressione sancita dall'articolo 21 della nostra Costituzione. Cascina è un luogo simbola, ha spiegato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo lì c'è la tomba di Gregory Summers, il 48enne texano che prima di morire per mezzo dell'iniezione letale aveva espresso il desiderio di essere seppellito in Toscana proprio a Cascina da cui riceveva le lettere dei ragazzini di una scuola media che per tanti anni lo avevano confortato nel braccio della morte. La serata sarà un evento molto bello, aperto soprattutto alle ragazze e ragazzi più giovani che vedrà la presenza di tanti bravissimi artisti, ha detto Mazzeo. Cerchiamo ogni anno di innovarla partendo da un dato, nel 1786 la Toscana è stata la prima regione al mondo ad aborire la pena di morte, una pena di morte che purtroppo ancora oggi metà degli stati al mondo applicano e la Toscana è sempre stata e sempre sarà terra di diritti, una terra che non si è mai voltata dall'altra parte. Ecco perché ogni anno abbiamo deciso dal momento in cui sono diventato Presidente del Consiglio regionale di legarla a un fatto di attualità insieme all'ufficio di Presidenza quest'anno abbiamo deciso di porre l'attenzione sul tema della libertà di espressione in un tempo in cui sempre meno c'è possibilità di esprimermi seppur la rete permette di avere spazi ampi in un momento in cui ci sono questioni che toccano le vite di ciascuno di noi noi sul tema della libertà di espressione vogliamo fare un focus parlando soprattutto alle ragazze e ragazzi più giovani. Inizieremo alle 11 con un consiglio solenne a cui parteciperà la giornalista di Repubblica, Angeli e alla Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche la professoressa Maria Chiara Carrozza a loro il compito di segnarci, di indicarci quella che può essere la strada su queste questioni poi ci confronteremo insieme ai sindaci saranno tanti, verranno da tutta la Toscana insieme ai gonfaloni arriveremo nella piazza della Signoria e lì ci sarà un momento aperto a tutta la cittadinanza e poi nel pomeriggio andremo a Cascina a Cascina ci sarà un evento serale perché Cascina proprio Cascina è un luogo simbolo il luogo in cui è sepolto Gregory Summers Gregory Summers è stato ucciso con la pena di morte e a lui abbiamo sostanzialmente dedicato spesso la nostra festa lui ha chiesto di venire ed essere sepolto proprio in Toscana aveva avuto uno scambio di lettere con i ragazzi della scuola di Cascina e con loro ha chiesto poi alla fine come ultimo atto di poter essere sepolto proprio in Toscana sarà un evento molto bello aperto soprattutto ai ragazzi e ragazzi più giovani alla presenza di Gaia Nanni di tanti altri ospiti penso Truppi, penso Vasco Brondi ci sarà un momento in cui colvolgere le ragazze e i ragazzi più giovani e nel mentre ci sarà un momento in cui illumineremo i principali monumenti delle nostre città il palco della città del teatro di Cascina vedrà la vicendarsi di momenti di teatro, talk e musica lasciando agli artisti la possibilità di intersecare le rotte dei rispettivi linguaggi all'insegna della contaminazione il cartellone è stato realizzato grazie alla direzione artistica di Francesco Carlucci che ha invitato artisti di rilevo nazionale particolarmente cari ad un pubblico giovane e non solo dando vita a un programma completamente incentrato sul tema della libertà di espressione affrontato dal punto di vista artistico, filosofico e poetico dopo i saluti del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo si esibirà Tronna, l'anagrafe Maura Gancitano e Andrea Colamedici tra i più quotati divulgatori filosofici della nostra contemporaneità che avranno il compito di introdurre il tema della serata e di accompagnare sul palco gli artisti seguiranno Gaia Nanni e Ginevra Di Marco che costruiranno attorno al tema della libertà parole, canzoni e testimonianze inedite la parte musicale ideata e curata da Francesco Magnelli i testi tutti inediti sono scritti dall'autrice Emanuela Critelli e recitati da Gaia Nanni insieme a loro sul palco il polistrumentista Andrea Salvadori poi Giovanni Truppi uno dei più autentici parolieri del nostro tempo capace di affiancare vicende autobiografiche ad analisi filosofiche e sociali e il cantatore e scrittore Vasco Brondi per quanto riguarda lo spettacolo teatrale appunto costruito con Francesco Magnelli Andrino Salvadori e Ginevra Di Marco è un percorso di parole e canzoni attorno al tema della libertà ci sarà una pagina iraniana a cui tengo moltissimo passeremo dal Sud America ritorniamo nella Toscana e uno dice come è possibile tutto questo beh, quando si parla di libertà forse è possibile perché le frontiere diventano davvero accoglienti i confini si fanno più labili tanta musica e tante parole speriamo tutte urgenti e importanti io ci sono dalla primissima chiamata che come sempre parte con è un, te lo dico subito è una follia, si fa? e tutte le volte che le cose partono così secondo me promettono bene quindi abbiamo pensato a quali potevano essere le storie da raccontare mi è venuto naturale insomma fidarmi agli artisti che stimo di più insieme a Francesco Carlucci abbiamo scelto persone che su quel palco scelgono anche di stare insieme perché hanno tematiche condivise e anche obiettivi comuni è un teatro importante nella nostra zona è un teatro con più sale è un teatro che ha una vocazione ad affrontare i temi dei diritti della socialità, dell'inclusione insomma è un teatro che chiama un po' quello che è il tema della festa da Toscana siamo molto contenti di questo il programma è bellissimo crediamo che sia e pensiamo di dover fare un bel teatro pieno e anche di divertirci il 30 perché è un programma che presuppone di parlare sì di diritti ma con un tono leggero con la bellezza della musica di grandi artisti quindi siamo molto contenti devo ringraziare Francesco Carlucci che ha lavorato molto su questo è stata una composizione a più mani quindi no, non è stato difficile perché gli artisti hanno risposto a questa chiamata con entusiasmo e quindi diciamo che sono stati anche loro un po' a chiamare noi nel senso a chiamare questa iniziativa a questa chiamata con entusiasmo